Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Quando ritroveremo un vistoso vortice depressionario proprio sul Tirreno, il lento spostamento in traslazione verso l'Adriatico. Venti ciclonici tra Ligure e il Martirreno con mareggiate sulle coste esposte di Toscana e Sardegna. Piogge, rovesce temporali concentrati soprattutto al centro-norte. Qualche fenomeno giungerà anche al sud, però soprattutto colpita la Campania. Andiamo a dettaglio, ecco qui le piogge consistenti. Attenzione al nord, alla Toscana, fenomeni anche copiosi sull'area alpina ed il nord-ovest, non esclusi locali alluvioni lampo, movimenti franosi sulle aree montuose per ingenti precipitazioni in poco tempo. Piogge temporali anche sul Lazio in arrivo sulla Campania, meno coinvolto il basso Adriatico e il versante ionico. Le temperature però inizieranno a calare anche qui perché dappertutto i venti saranno disposti in prevalenza di maestrale con un calo termico al nord-ovest anche di 10-15 gradi rispetto ai giorni precedenti. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trabi Meteo e gli articoli sul nostro sito web.